In questo video vediamo come distanziare gli elementi quando siamo in un contesto flexbox, ovvero definiamo un elemento parent, un contenitore, con id parent, e definiamo tre elementi figli, quindi facciamo maggiore, gli elementi figli avranno classe child, quindi facciamo appunto child, scriviamo qualcosa all'interno degli elementi figli, figlio, dollaro, facciamo per 3 e tab. Molto bene, salviamo, andiamo all'interno di stile.css e iniziamo a lavorare sull'elemento padre, quindi facciamo cancelletto parent. Se vogliamo lavorare con flexbox dobbiamo assegnare alla proprietà display il valore flex e facciamo border, diamo un bordo di 3 pixel, solid, crimson, diamo un'altezza di 200 pixel e un padding di 20 pixel. Perfetto, lavoriamo adesso sugli elementi figli, quindi facciamo appunto child e facciamo flex 1 1 auto, quindi abbiamo flex grow 1, flex shrink 1 e flex basis auto. Dato che per quanto riguarda flex shrink e flex basis sono già i valori di default, possiamo fare semplicemente flex grow 1. Perfetto, diamo un colore di sfondo, proviamo con antique white, spero di averlo scritto bene e diamo un bordo di 2 pixel solid coral. Perfetto, salviamo e vediamo il risultato. Molto bene, abbiamo i nostri elementi figli, i flex item, notiamo però che sono l'uno attaccato all'altro. È spesso probabile che vogliamo distanziare gli elementi gli uni dagli altri. Per farlo possiamo utilizzare una proprietà all'interno del contenitore, quindi all'interno dell'elemento padre, la proprietà gap. Ad esempio vogliamo dare un gap tra gli elementi di 20 pixel, facciamo semplicemente gap 20 pixel. Perfetto, salviamo ed aggiorniamo. Perfetto, vediamo che adesso gli elementi hanno tra loro un gap di 20 pixel.